Siamo dato Gesù Cristo. Un saluto carissimo a voi che ascoltate oggi. Gesù annuncia, è una delle tre volte che lo fa, che sarebbe stato catturato, crocifisso, dalle autorità dunque del Tempio insieme a quelle romane. E sarebbe morto, ma poi sarebbe risorto. Sgomento, incredulità, fai discepoli. Ed ecco che mentre c'è questo annuncio, a Cafarno gli esattori del Tempio chiedono se egli non paga o paga la tassa al Tempio. Il maestro paga o non paga la tassa al Tempio. Un atto di giustizia, un atto di giustizia umana, un atto di offesa, come se Gesù a Cafarno non avesse predicato, detto di sé, di essere il Messia, come se non avesse fatto miracoli, liberazioni infiniti. A Cafarno fece miracoli a non finire e poi riproverò a Cafarno per la sua incredulità, nonostante questo. Dunque Gesù aveva dimostrato di essere il Messia, lo aveva proclamato, ma quelli del Tempio gli mandano a dire che deve pagare la tassa, come se fosse un semplice cittadino. È un modo per sminuirlo e anche per metterlo di fronte a una responsabilità. Ribellione al Tempio, non paga le tasse, non è una persona giusta. Quindi la considerazione che volevano avere di lui era meno del meno. Che ve ne pare, dice Gesù a Pietro, Pietro, i figli del re pagano la tassa o gli altri? Gli altri, appunto. Ma per non scandalizzarli, ecco che Pietro vai a pescare, prendi il primo pesce che trovi, tira fuori la moneta d'argento che troverai nella bocca di quel pesce e con questo paga la tassa per me e per voi. E così Pietro fa. Gesù avrebbe pagato ben altro tributo che gli viene richiesto dagli uomini malvagi ben altre ingiustizie. Vogliono addobitargli, sovvertire la legge di Mosè, cosa che non avrebbe mai fatto e non aveva mai fatto. Soprattutto farsi Dio, appunto, farsi figlio del re l'Altissimo. Questo è il suo delitto. Ecco perché gli chiedono questa tassa. Anche nelle piccole cose, minute, eppure erano lì a esigere per dimostrare, ribadire noi non ti vogliamo come re, noi non ti consideriamo Messia, tu puoi fare tutti i miracoli che ti pare, puoi essere da Dio, puoi vincere la morte, non ti vogliamo. Gesù salirà sulla croce preparata per lui dai pagani a cui viene consegnato da quelli del Tempio. Il mondo, quindi, è alleato nel male. Paga il tributo, il tributo di sangue per salvare tutti gli uomini. C'è ben più di una tassa del Tempio che gli paga per noi. e il padre glielo accreditano come giustizia perché egli è l'innocente che volontariamente sale su quel pativolo. Io do la mia vita, la riprendo, nessuno me la può prendere. Così anche questo atto di tassazione che egli è costretto a pagare egli la paga per non scandalizzare, non perché non avesse la forza di non pagarlo. Nessuno deve essere scandalizzato di che è corto di intelligenza spirituale per le cose. Il problema è di chi invece è nella malizia, cioè nella piena intelligenza spirituale, ma sceglie il male. Così che a noi viene chiesto di essere fedeli alle leggi di Dio Padre, alla sua volontà, anche quando queste diventano atti di ingiustizia qui sulla terra, cioè ci chiede di consegnarci di essere docili, di pagare il nostro tributo qui sulla terra in nome di un messaggio che non scandalizza i piccoli. Un messaggio che può e deve essere compreso da chi comprende più profondamente. Lo scandalo verso i piccoli è molto grave, che vuol dire in nome di Dio e della giustizia divina e della verità posso proclamare grandi verità, ma se queste non riescono a raggiungere l'intelletto dunque il cuore di tanti che sono piccoli, questi diventano dannose ai piccoli. Scandalo, impedimento alla fede. Al giorno d'oggi si usa la notizia, la verità, le posizioni, creando divisioni, scandalo nella Chiesa e fuori dalla Chiesa. L'unica domanda che non ci si fa, mi sembra, sia se le prese di posizioni molto forti, pubbliche, possano essere un impedimento alla fede dei piccoli, se non traviamento di quello che è la loro fede. C'è una cura, un'attenzione agli spiriti deboli e piccoli che ha la stessa necessità della salvezza. Anche San Paolo quando c'è la questione della carne sacrificata agli idoli dice idoli sono nulla ma per non scandalizzare non la mangio di fronte a coloro che invece la ritengono tale, impura, eccetera. Abbiamo un dovere di essere delicati nella informazione e nella formazione di tutti. Gesù parla chiaramente con chissà Gesù parla in parabole per chi non lo sa e chi non può cogliere Gesù cerca di non scandalizzare nessuno perché questa tela delicata questo tessuto dell'anima non si rompa ma possa giungere nel suo grado a essere salvata per quello che può capire per quello che può accettare l'importante è la salvezza non la verità proclamata sempre dovunque comunque che lacera coscienze e acceca l'intelletto dei pochi dei piccoli tutto va fatto con carità e con misura e di questo la chiesa deve dovrebbe essere maestra Dio benedica di 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 Grazie a tutti